Siamo qui a Fotocunti, a Cleto, abbiamo Merzia Lucente dell'Associazione Cromatica di Catanzaro. Che cosa ne pensi di questo progetto Fotocunti? In realtà preferisco fotografare, anche se è più difficile fotografare, perché... Sì, secondo me sì. Perché? Perché la fotografia è arte. Perché per me la fotografia è la mia interiorità, quindi ovviamente dipende da come cerco di esprimermi, però è comunque quello che sono io. Che cosa ti ha colpito più di Cleto in questi giorni? La gente, quella che ho incontrato. Quindi il tuo progetto, il tuo risveglio si è concentrato maggiormente sulla comunità? Sì, perché chi vive un posto è il posto stesso, quindi deve essere raccontato. Grazie a tutti.